come va ragazzi benvenuti sul mio canale io sono elie gabrie oggi siamo quando un nuovo episodio di spiderman marvel spiderman number 16 partiamo qualcuno ha lasciato un messaggio il numero è privato chi è chi è ehi ragnetto da quanto tempo ci sono mancata vieni a questo indirizzo prova a prendermi oh oh temo di riconoscere la voce chi è sto puttanone andiamo mannaggia oh sempre in mezzo alle palle stasera ragazzi ma quanta gente c'è eh non siete in tempo di coi no forse non è ancora il momento di cercare un altro lavoro mi serve tempo dobbiamo resistere va bene va bene ti preoccupa black cat spero non stia cercando nuovi obiettivi da svaliggiare mi aveva permesso di cambiare vita che cosa stava cercando un attimo ci sarà qualcosa fuori posto vuole che noti qualcosa devo osservare meglio sì sì eccolo trovato uno dei suoi gatti prima ma l'imbottisce di amplificatori di portata poi cattura segnali a radiofrequenza o l'omodono chiederò iuri di recuperarlo ma prendono anche te felissia è troppo astuta per esporsi in questo modo dov'è felissia deve essere in difficoltà terrò gli occhi aperti ok perfetto finito già fatto va bene hai ancora costume armi di black cat nel deposito delle prove penso di sì perché è tornata forse controlla e fammi sapere se il suo equipaggiamento è ancora lì non c'è più non c'è più lo sappiamo bene già finita la missione ragazzi ma che peccato no no noi ci vediamo prossimo episodio mi raccomando lasciate un like commentate condividete ciao ragazzi mi raccomando lasciate un like